Musica Parla Saverio Cotticelli, capo dei cocer, gli organismi di rappresentanza delle forze armate Siamo leali ma la storia dei due fucilieri di Marina si è trasformata in una farsa Evitiamo che diventi una tragedia Una parolaccia al giorno tra insulti e aggettivi sguaiati Il gergo politico italiano sembra aver accettato la volgarità E sono lontani i bizantinismi della prima repubblica Ci vuole coraggio a fare il sindaco di una città in tempi di crisi nera Ma può arrivare anche la soddisfazione dell'applauso dei cittadini Ecco la classifica dei sindaci più stimati d'Italia Insediato il nuovo consiglio regionale con presidenza al rischio rinvio a giudizio Roberto Maroni, nel Fortino Rombardo Deve occuparsi da segretario delle Carroccio della partita romana E delle liti tra i leghisti veneti Ancora lui Enrico Bondi L'uomo delle emergenze andrà nei prossimi giorni all'Ilva di Taranto Dopo avere soccorso negli ultimi 20 anni la Montedison e la Parmalat E dopo tentativi falliti di tagliare la spesa pubblica e il deficit della sanità nel Lazio Con i suoi gesti ha rivoluzionato lo stile e linguaggio vaticano Ma ora arriva il momento delle scelte per Papa Bergoglio A cominciare dal rinnovo della segreteria di Stato e il governo della Santa Sede Buon poveriggio a tutti voi Dunque resta sempre un tema caldo e anche un terreno di scontro La vicenda dei fucilieri italiani Ieri, come sapete, Monti ha riferito in Parlamento Prima alla Camera dei Deputati, poi al Senato Dopo le dimissioni a sorpresa e inaspettate del ministro degli esseri terzi Non nascondendo certo una certa irritazione nei confronti del suo collega Una scelta diversa da quella fatta invece dal ministro della difesa di Paola Che ha deciso invece di restare al suo posto Nonostante la decisione del rientro in India dei due Marò Sia stata una decisione dolorosa e sofferta Ma in quel momento necessaria Ha detto questa mattina Di Paola Una scelta collegiale del governo E poi Di Paola si è anche in un certo qual modo In un suo messaggio inviato ai due fucilieri La Torre e Girone Si è scusato con loro perché non sono qui in Italia Ma loro sono militari Obediscono agli ordini E rispettano le regole Ed è comunque inevitabile che questa vicenda Che questo caso abbia anche creato un certo sconcerto tra di loro E così con noi oggi parla il presidente delle cocere Interforze Sentiamo cosa dice Sono andati anche in Parlamento Si sono seduti in aula in alta uniforme Erano lì mentre la moglie di Salvatore Girone Chiedeva a gran voce di riportare a casa i due fucilieri di Marina Mentre il governo spiegava il pasticcio Che ha riportato in India i due sottufficiali del San Marco Dopo aver annunciato di volerli trattenere Ascoltavano sconcertati Mentre il ministro Terzi annunciava le sue dimissioni E il giorno dopo Mentre il premier Monti attaccava il suo ex ministro Accusandolo di aver anticipato notizie alla stampa Per suoi fini personali E di aver fatto saltare i piani Ancora una volta Quelli del cocere Interforze I delegati che rappresentano i militari di tutte le forze armate Sono rimasti basiti Per loro la lealtà è tutto Obedire un imperativo categorico Ma cosa pensano di tutta questa storia? Le forze armate sono uno strumento democratico del paese Affidabile e costituzionale Le forze armate fanno il loro dovere in silenzio Pronti a servire la patria Laddove ce n'è bisogno E quindi stanno al loro posto E obbediscono Già ma lo sconcerto tra le stellette è forte Qualcuno in forma anonima Si sfoga in rete sui blog Anche sul web si dibatte da mesi Se ne parla non solo nei corridoi degli alti comandi Ma ad ogni livello Nelle caserme Questa storia è una farsa Ha scritto senza mezzi termini Il capo di stato maggiore della difesa Binelli Mantelli Che ha promesso Non li lasceremo soli Quelli del cocer sottoscrivono Ora la farsa non diventi tragedia Nelle caserme c'è preoccupazione per la sorte dei ragazzi Questo è indubbio Perché siamo tutti per uno e uno per tutti Non c'è più differenza tra marinai Come i nostri ragazzi Soldati, avieri, carabinieri, finanzieri Tutto il comparto difesa In questo momento è compatto Dietro questi due ragazzi Siamo tutti in India in questo momento Rimandarli indietro è stata una scelta sofferta Dolorosa ma necessaria Ha spiegato questa mattina a Napoli Il ministro della difesa di Paola Il governo ha preso una decisione collegiale Loro hanno obbedito al senso del dovere Rispettato la divisa La parola data anche a dispetto delle emozioni E dei desideri delle famiglie Molte domande restano ancora senza risposta Non solo sugli esiti politici e diplomatici Ma sulla gestione del caso Fin dalle prime fasi Ad esempio chi diede davvero l'ordine Di invertire la rotta Alla petroliera Enrica Lexi Dopo l'incidente Chi accolse l'invito della guardia costiera indiana Farla rientrare nel porto di Coci Per partecipare al riconoscimento Di alcuni presunti pirati E ancora I due fucilieri Potevano nel frattempo Essere portati via Da altri mezzi militari Presenti nell'area Comunque sia andata Ora bisogna sbrogliare la matassa La specificità della condizione militare E' dare la propria vita al servizio della patria La propria libertà al servizio del paese Questo stanno facendo Il militare è il custode dei valori patri Della bandiera, del giuramento, dell'onore Questo rappresenta, rappresentano le forze armate La torre e il girone sono stati sufficientemente literati Secondo lei Io Devo dirle che Noi abbiamo fiducia Dico a quei ragazzi Non abbiate paura Perché non posso credere Che due soldati Possono essere abbandonati Al loro destino Io sono un ottimista per natura Sono sicuro Che questi ragazzi torneranno a casa Allora vedremo come andrà a finire Questa vicenda Dei due fucilieri italiani Che sono dunque ritornati in India Intanto i politici I politici che sono alle prese Con la formazione del governo Ma c'è un politico Forse più di tutti Che in questo momento Ha diversi grattacapi Perché dovrà affrontare Più situazioni diverse E tra loro Questo per esempio È Roberto Maroni Che è anche segretario Della Lega Nord Oltre che Neo-governatore Della Lombardia Ieri come sapete Si è insediato Il nuovo consiglio regionale Della Lombardia Lo abbiamo seguito Dove già Non mancano I problemi C'è poi La battaglia Di Maroni La battaglia della Lega Sulla formazione Del governo E poi Maroni dovrà affrontare I diversi mal di pancia Che arrivano dalla Lega Veneta È un gioco stretto Quello di Roberto Maroni Aperto su tre fronti Palazzo Pirelli E la Lombardia La partita di Roma Sul governo In coalizione con Berlusconi E il PDL Il fianco Veneto Con i bossiani Che gli stanno addosso Dentro la Liga Uno La Lombardia Maroni Ha vinto le elezioni Contro Ambrosoli Con lo slogan Il 75% Delle tasse A casa nostra Come primo atto Dopo la seduta di ieri Del Consiglio Oggi però Non si è potuto Occupare di fisco La vera questione È il lavoro Il neo governatore Stamattina Ha convocato Le parti sociali Sindacati E associazioni Di impresa È un tema Su cui nessuno Si può mettere contro Ma il Consiglio Regionale di ieri Ha già mostrato Qualche crepa PDL e Lega Si sono divisi Sulle elezioni Del loro segretario Nell'ufficio di presidenza Alla fine Era spuntata La candidata del carroccio Daniela Maroni Nessuna parentela Col governatore L'elezione Del vertice Dell'ufficio di presidenza Ha riproposto La questione giudiziaria Il punto Che aveva perduto La passata gestione Del Parlamento Lombardo Il presidente del Consiglio I suoi due vice Cattaneo Del PDL Cecchetti della Lega E Valmagi Del PD Sono tutti indagati Dalla procura di Milano Con l'accusa di peculato Nell'inchiesta Sui rimborsi Cattaneo Nel discorso Di insediamento È stato quasi costretto A precisare Se sarò condannato In primo grado Presenterò le dimissioni Voglio anticipare A questo Consiglio Che se io Dovessi mai essere oggetto Di una condanna Di primo grado In quello stesso istante Le dimissioni Saranno presentate Al Consiglio regionale Per Maroni Poi c'è la partita nazionale Quella da segretario Non è andato Da Napolitano Alle consultazioni E ha lasciato il campo Ai capigruppo Sembrava uno smarcamento Da Berlusconi Invece al colloquio Da Bersani Maroni si è presentato Con Alfano Oggi ha spiegato Che il filo Con il segretario del PDL È diretto La linea comune Maroni sa Che un ribaltone A Roma Metterebbe a rischio Non solo la sua giunta Ma anche quelle di Piemonte E Veneto E così S'arriva a Venezia La fazione bossiana È mal di pancia Punta sul governatore Zaia Contro il segretario Regionale Tosi Ieri il commissario Provinciale Inviato a Venezia Dal sindaco di Verona Una punizione Per il presunto disimpegno Durante la campagna elettorale È stato cacciato Da un gruppo di militanti Non lo hanno fatto Neppure Entrare nella sede Allora intanto Arrivano i primi tagli Come annunciato Il neopresidente Della Camera Boldrini Il giorno dell'insediamento Risparmieremo Taglieremo Dunque I vertici della Camera La notizia è di poco fa Presidente Vicepresidente E questori Rinunciano Agli appartamenti Di servizio Arriva anche Una stretta Sull'utilizzo Del parco auto Le auto blu In uso Alla Camera Potranno essere Inoltre Utilizzate Per ragioni Di servizio Solo per tragitti All'interno Della capitale Oppure per raggiungerne Gli aeroporti Questo Ha dunque Stabilito Poco fa L'ufficio di presidenza Di Montecitorio Pur senza chiudere Alla valutazione Di casi Eccezionali In deroga Ai principi Sopra indicati Il parco auto Di Montecitorio È composto Da 10 auto Di servizio Che devono servire Per circa 70 persone Oltre al presidente Della Camera Ovviamente Tra esse ci sono Titolari di cariche O presidenti Di commissione Giunte Queste dunque Sono le delibere Sui tagli Che sono stati Annunciati Sia dal presidente Della Camera Boldrini Che dal presidente Del senato Grasso E tra l'altro Sulle auto blu Si è anche Molto parlato Su quante sono Le auto blu A Roma In Italia E quante Dovranno essere tagliate Comunque Chi segue La politica E passiamo un po' Anche ad un altro Argomento Sempre restando Nell'ambito Della politica Se ne sarà Ormai accorto Ormai regna Tra i politici E non c'è Nessuna differenza Siano essi Di destra Che di centro Che di sinistra Questo uso Quanto mai Disinvolto Della parolaccia Della volgarità Gli ultimi casi Per esempio Ci raccontano Dell'assessore Regionale La Sicilia Battiato Che ha pesantemente Offeso Le donne presenti Nel Parlamento Troppo anche Per il governatore Crocetta Che ha deciso Di licenziarlo Proprio ieri E poi ci sono Le parole pesantissime Quasi quotidiane Di Grillo Insomma Se prima venivano Veniva usato Un linguaggio colorito Adesso Si è arrivato Si è arrivato Proprio A degli insulti Troie e puttanieri Se non altro Gli ultimi insulti Lanciati nel mondo Molto poco British Della politica Nostrana Rispettivamente Dal neoacquisto Franco Battiato In sede europea E dal blog Di Beppe Grillo Sono decisamente Intonati tra loro Come l'asola E il bottone Qualche volta C'è qualche stronzo Che dice una parola Di troppo Perché da un paio Di decenni A questa parte La parolaccia Piove invece In ordine sparso Democraticamente Per così dire Da destra Dal centro E da sinistra Ma vada a farsi fotere Lei è un bugiardo Un mascarzone Senza lesinare In volgarità Perfino con giornate Ad essa dedicate I più fedeli Seguaci di Monsignor Della Casa Si devono comunque Essere arresti Da un pezzo Tale è la lista Degli insulti Che in questi ultimi anni Le cronache Hanno messo insieme Urlati e borbottati Che fossero In tv O in Parlamento Ma sempre A quanto pare Con un certo gusto Che all'estero Fanno fatica a capire Io lo dico Padri puttanieri Cioè questi Nei americani Nei inglesi Ci hanno I padri fondatori I founding fathers Sai quelli che E io oggi Tutto a scervellarmi E come lo traduco E mi è venuto Pimping fathers Che non sta molto bene Per chi sa l'inglese Però alla fine Questi qua Guardano il nostro paese E guardato da fuori Non dico che sia divertente Però è sorprendente Il problema Che noi ci siamo dentro Queste cose Le stiamo vivendo Che non siano più i tempi Dei cazzarola di gava E delle bischerate Di fanfani Lo abbiamo capito tutti A sostegno della teoria Dei progressivi Dei gradi Del costume E dell'italiano E forse Si possono leggere anche così Più ancora Che con la crisi economica I recenti attacchi Sferrati dalla politica Alla società Dante Alighieri Quelli dei tagli economici Più sgraditi Probabilmente Di quelli linguistici A gesti O a parole Che siano Tra un salotto tv E un fuori onda galeotto Le offese viaggiano ormai Che è un piacere Senza contare nemmeno Gli innumerevoli Stalin Mussolini e Hitler Chiamati di volta in volta In causa Senza troppo rispetto Per la storia La parolaccia Forse è solo L'altra faccia simmetrica Del politicamente corretto Più colorita certo Ma non meno povera Di pensiero Che ora Sembra attraversare Una sua mutazione genetica Non più per insultare O non solo per insultare Ma prima ancora Per cercare una qualche complicità In quel territorio miracoloso Cui tutti i partiti Senza eccezioni Dicono di voler puntare Quello che una volta Si chiamava semplicemente Gente E che ora Con una parola magica Si chiama invece Società civile Magica Ma anche misteriosa Che tanto spesso Invece viene scambiata Per incivile E se le parolacce E gli insulti Non fanno che allontanare Gli italiani Gli elettori Dalla politica Questo non si può dire Nei confronti Dei sindaci Che sembrano godere Sempre di più Della fiducia Dei propri elettori Malgrado Siamo sempre più Accorto Di risorse Come ogni anno Esce una classifica Sui sindaci Più amati L'anno scorso C'era il sindaco Di Napoli De Magistris Oggi c'è invece Il sindaco Di Lecce I cittadini Sempre più lontani Dalla politica Probabilmente sì Ma questo non vale Per i sindaci Almeno se ci basiamo Sulla ricerca Dell'istituto Data Monitor Che ogni anno Regista gli umori Delle diverse città italiane Nei confronti Del primo cittadino 110 comuni Sparsi in tutte le regioni Altrettante pagelle Per ciascun sindaco E ne esce Un quadro incoraggiante Per i timonieri Delle città Che dimostrano In molti casi Di godere Della fiducia Dei loro elettori Ma chi sono I sindaci Più amati D'Italia? Eccoli In una lista Che vede in vetta Paolo Perrone Che guida La città di Lecce E al suo secondo mandato Ed ha raccolto Il 64,2% Dei consensi La sua grande passione È la politica Una passione Che viene da lontano Dal nonno Paolo Che negli anni 60 È stato assessore Pro sindaco Del comune di Lecce Ed è in suo suo padre Già consigliere comunale Provinciale E deputato della Repubblica Perroni ottiene Bel 1505 preferenze Nelle elezioni comunali E diventa Il più votato Fra tutti i candidati Dal centro-destra Nelle ultime consultazioni Per il rinnovo Del consiglio provinciale Al secondo posto Mario Lucini Sindaco di Como Con il 63,8% I suoi punti di forza Sono economia e lavoro Ha sempre avuto Come obiettivo Evitare gli sprechi E incentivare L'occupazione Dei giovani Attraverso Le attività locali Al terzo posto Vincenzo De Luca Con il 63,5% Dei consensi Un sindaco Che nel suo Partito Democratico Si è trovato spesso Davanti a incomprensioni Per la sua condotta Da sceriffo Le sue battaglie Per migliorare La vivibilità E la sicurezza Dei cittadini Hanno riscosso Numerosi consensi Tra i salernitani Altro traguardo La raccolta Differenziata Porta a porta L'emergenza Di fiuti In Campania Non sfiora Nemmeno La città di Salerno Spesso L'amministrazione De Luca È sotto i riflettori Della stampa nazionale Sul podio Due sindaci Su tre Sono del sud Nella classifica globale E dei 49 29 sindaci Sono del nord 7 del centro E 13 del sud I sindaci Che hanno guadagnato Più consensi Sono stati Marco Zambuto Sindaco di Agrigento E Giuliano Pisapia Di Milano Ma anche Massimo Cialente Sindaco dell'Aquila Nella precedente edizione Al primo posto Figurava il sindaco Di Napoli Luigi De Magistris Che ora È solo Diciannovesimo Con un calo Del 6% Giù anche Il sindaco Di Firenze Matteo Renzi Che diventa Trentanovesimo Sui 110 comuni Monitorati Ben 49 sindaci Sono entrati Nella classifica Di coloro Che superano Il 55% Del consenso Mentre Nell'edizione precedente Si fermavano A 45 Per quanto riguarda La qualità Dei servizi Nelle città italiane Si distinguono Bolzano E Trento Segue Reggio Emilia Poco distante Pordenone Belluno I primi 20 posti Sono tutti occupati Da città del nord Un ultimo dato Per nulla confortante Nella classifica Dei sindaci Più amati Non è presente Nemmeno una donna Ed è invece Soltanto Al 24esimo Posto Della classifica Il sindaco Grillino Federico Pizzarotti Sindaco Di Parma Diventato famoso Non soltanto Per essere Il primo sindaco Di una Primo sindaco Grillino Di una Importante città Ma anche Per la sua Battaglia Fortissima Contro L'inceneritore Che comunque Va avanti Una vicenda Intricata Che mescola Ambiente Politica Indagini Giudiziarie E che approderà In Parlamento L'inceneritore Di Ugozzolo Diventerà infatti Oggetto di una Interrogazione Al governo Dei senatori Grillini Che vogliono Costringere A una presa Di posizione I ministeri Dell'ambiente Dello sviluppo E delle finanze La cancellazione Del termo Valorizzatore Per lo smaltimento Rifiuti Era stata Il cavallo Di battaglia In campagna elettorale Del sindaco Federico Pizzarotti Che pur lottando Non è riuscito Però a scongiurare La temuta accensione Delle fiammelle La struttura Oggi è infatti In piena fase Di collaudo E questo Nonostante la magistratura Abbia aperto Un'inchiesta Sospettando Irregolarità Nell'iter di approvazione E costruzione Dell'inceneritore L'impianto Ha anche rischiato Il sequestro Ma poi Tutto è andato avanti Almeno fino ad ora Perché una nuova bomba Rischia di far saltare Il progetto Il fondo F2I Per le infrastrutture Controllato da Cassa Depositi E prestiti Dovrebbe rilevare In realtà molti servizi Che ha in carico La costruzione E attivazione Del termovalorizzatore Per un investimento Di circa 80 milioni di euro Ieri Il fatto quotidiano Ha rivelato Che F2I Sarebbe pronto A tirarsi fuori Dall'accordo A provarlo Ci sarebbe una lettera Riservata Scritta da Vito Gamberale Amministratore delegato Di F2I E indirizzata a IREN Gamberale Da quanto si legge Spiegherebbe Di avere chiesto Pareri legali Circa i rischi Di confisca O demolizione Del PAI Il polo ambientale integrato Di cui l'inceneritore E la principale struttura I legali Non avrebbero escluso Questi rischi Viste le indagini Della magistratura Nella lettera Si parlerebbe anche Del timore Che l'inchiesta Sull'inceneritore Possa comportare Conseguenze ulteriori Sulle società Coinvolte nel progetto L'amministratore delegato Annuncerebbe perciò Di volere sospendere L'investimento Fino a che Queste criticità Non saranno risolte Vito Gamberale Al telefono Non smentisce Anche se parla Di una enfasi mediatica Fuori luogo Che rischia di profanare La realtà dei fatti Certo Un assist per la giunta Grillina di Parma Che si muove Per una interrogazione Parlamentare Detto fatto Nell'interrogazione Firmata dai senatori Cinque stelle Si legge che Quello dell'inceneritore È un investimento Antieconomico E non in linea Con le indicazioni Del Parlamento europeo Che vieta L'incenerimento Di tutti i rifiuti Riciclabili E compostabili Dal 2020 Inoltre Visti i costi Di smaltimento previsti Circa 160 euro Per tonnellata I firmatari Ipotizzano Un danno erariale Potenziale E una ricaduta Di spesa enorme Per i cittadini Che potrebbe essere Evitata Con soluzioni Più economiche Soluzione Che il comune di Parma Avrebbe già A portata di mano Ha infatti Appena chiuso Un bando Per un progetto Ecosostenibile Per il trattamento Biologico Dei rifiuti La fabbrica Dei materiali Vuole essere L'alternativa All'inceneritore Che però Ha nel frattempo Preso vita Le fiamme Per ora Bruciano solo Gas metano Ma l'obiettivo Di IREN Sarebbe di farlo Entrare In funzione Il mese prossimo Intanto L'ilva di Taranto Si affida A Enrico Bondi Il manager Delle missioni Impossibile Colui Che ha curato Montedison Parmalat Fino ad arrivare A diventare Il commissario Della spending review E commissario Per la sanità Della regione Lazio Bondi Si è sempre occupato Dicevamo Delle aziende In crisi E a metà aprile Approderà Al siderurgico Più grande D'Europa Per diventarne Amministratore delegato Tu sei Jimmy giusto È casa tua Sì Proprio così Sono il signor Wolf Risolvo problemi Ah bene Ne abbiamo uno Me l'hanno detto Posso accomodarmi Ma sì La prego Entri Mancano due settimane Poi si potrebbe Presentare così All'ilva di Taranto Il super manager Delle emergenze Enrico Bondi Proprio lui È il capezzale Del più grande Siderurgico Italiano Oggi Bondi 78 anni È già in tasca Un contratto Di consulenza Spiegato il presidente Bruno Ferrante Agli operai Riuniti per il saluto Pasquale Ma a metà aprile Assumerà la carica Di amministratore delegato Il futuro dell'ilva Passerà dunque Per le mani E per le idee Dello sforbiciatore Per antonomasia Anche la rete Non ha perso Occasione di ironizzare Anche qui A Taranto Bondi taglierà Ma dovrà tagliare Soprattutto L'inquinamento Messo sotto accusa Dalla procura di Taranto Che indaga Per disastro ambientale Un ciclone giudiziario Che ha investito In questi mesi L'azienda Portando i conti In grave sofferenza E i dipendenti In cassa integrazione Il presidente Ferrante Parla di svolta Epocale Bondi Ha già avuto esperienza Nel mondo dell'acciaio Ma il suo nome È legato soprattutto Al risanamento Parmalat Dopo il crack Del 2003 Un buco Di oltre 14 miliardi Di euro Provocato dal patron Callisto Tanzi Che appunto Bondi Riuscì a risanare Proverbiale La sua frugalità Via Le auto aziendali di Lusso Via Gli aerei Usati dalla precedente Gestione All'ultima assemblea Del gruppo Prima della vendita Alla francese Lactalis Arrivò però Con l'auto blu E ripartì Con la sua panda Grigia Energy Saving Parcheggiata La sera prima Poco distante All'inizio All'inizio degli anni 90 Bondi Aveva vinto Un'altra sfida Rimettendo in ordine La Montedison Il gruppo Di proprietà Dei Ferruzzi Si trovava sommerso Dai debiti Anche il premere Uscente Mario Monti Lo chiamò Ad occuparsi Della famigerata Spending Review Ma il suo tentativo Venne travolto Dall'inizio Della campagna elettorale Con il leader PD Pierluigi Bersani Che lo accusava Di aver accumulato Troppe poltrone E soprattutto Di aver accettato Il ruolo Di selezionatore Di curricula Degli aspiranti candidati Con Mario Monti In scelta civica Ora Bondi Arriva all'Ilba Per la prima volta La famiglia Riva Non sarà nel management Ha spiegato Il presidente Ferrante Si pensa A nuovi assetti A organizzativi Con lo scopo Di assicurare Che i 4 miliardi E mezzo Che servono Per il risanamento Ambientale Siano effettivamente Spesi Anche qui a Taranto Ci saranno insomma Tanti problemi Da risolvere Una nuova missione Per Enrico Bondi Ecco Lo vedete C'è Papa Francesco Ne abbiamo parlato Nel nostro telegiornale Questo pomeriggio Andrà nel carcere Minorile Di Roma Casal di Marmo Dove ci sarà La rituale Tradizione Della lavanda Dei piedi Un Papa Che non smette mai Di sorprenderci Per i suoi gesti Semplici Per i suoi gesti Umili Anche per le sue Importanti parole Ricordiamo quelle Sulla corruzione Però arriverà Anche per Papa Francesco Il momento Forse più delicato Quello che riguarda La scelta Della segreteria Di Stato E dopo Il Toto Papa Comincia Adesso il Toto Segretario Toto sui nomi Del prossimo segretario Sta già scegliendo Il suo esercito Di beati Papa Francesco A sorpresa Ha promulgato Il decreto Per autorizzare 63 beatificazioni Molti sono religiosi Uccisi Durante la guerra civile Spagnola Ma spiccano Anche nomi italiani Come quello Di Giuseppe Girotti Il sacerdote Ucciso Nel lager Di Dachau E considerato Un giusto Tra le nazioni Per aver aiutato Gli ebrei Durante le persecuzioni Naziste E quello Di Rolando Rivi Seminarista Ucciso A 14 anni Dai partigiani La beatificazione Di questo martire Bambino Protagonista Di una delle pagine Più dolorose E controverse Della storia italiana È comunque Un altro segno Della chiesa di Francesco Un papa Che con i gesti E le parole Ha già conquistato Tutti i credenti E laici La sua riforma È già partita Con l'inaugurazione Di un nuovo stile Umanissimo E umile Sotto la talare bianca Bergoglio Continua ad essere Un pastore Un parroco Che ha ridotto La scorta Pagato il conto In albergo Rinunciato All'appartamento Papale Un padre Gesuita Che porta al collo Una semplice Croce di ferro E ha rinunciato All'oro Anche per un altro Simbolo del suo ministero L'anello Del pescatore Un papa Che ha fatto Del fuori programma Il suo programma Che chiede ai sacerdoti Di andare Nelle periferie Dove dice C'è maggiore Sofferenza È una chiesa povera Aperta ai poveri Che sappia andare incontro Ai più deboli La chiesa Che Bergoglio Aveva in mente Quando ha scelto Di chiamarsi Francesco Una chiesa Che anche nei giorni Che precedono La Pasqua Sappia Abbandonare Ogni fasto Anche con qualche Strappo Alle regole Come farà oggi Bergoglio Celebrando la lavanda De piedi Nel carcere romano Di Casal del Marmo E ammettendo Una ragazza A rito Come faceva Adavescovo A Buenos Aires Ma sarà Soprattutto Dopo Pasqua Che la chiesa Di Francesco Al di là Dei gesti E delle emozioni Prenderà Davvero forma Perché Bergoglio Dovrà scegliere Il suo sottosegretario Il nuovo premier Vaticano Proprio da questa nomina Che molti attendono Già nel mese di aprile Si potrà leggere meglio Il segno Del pontificato Miserando Atque Eligendo È il motto Di Papa Bergoglio E dunque Chi guarderà Con misericordia E chi sceglierà Francesco Per governare La chiesa ferita Dagli scandali E dai dossier Di Vatilix Durante La criticata Gestione Del cardinale Bertone Appena finito Il toto Papa Già iniziava Il toto segretario In testa Ci sarebbero L'arcivescovo toscano Segretario Della congregazione Per i vescovi Lorenzo Baldisseri Che come Bergoglio Arriva dall'altra parte Del mondo Perché ha guidato L'annunziatura Brasiliana E poi Il porporato pugliese Prefetto Per la congregazione Per l'evangelizzazione Dei popoli Ferdinando Filoni Che si dice Abbia avuto Molti scontri In segreteria Di Stato Il successore Di Bertone Dovrebbe essere Comunque un italiano Per rispondere Ad una delle regole Non scritte Ma seguite Nei palazzi apostolici Che vede Accanto ad un Papa Straniero Un segretario Di Stato italiano Ma anche in questo caso Papa Francesco Potrebbe riservarci Un fuori programma Adesso ci fermiamo Per la pubblicità Tra poco Vi aspettiamo Ci fermiamo qua Non ci sono altri aggiornamenti Come sempre vi ricordo Il nostro sito Tgira7.it Twitter L'edizione delle 20 E noi ci vediamo Domani alle 14 Buon pomeriggio Grazie a tutti